Ben ritrovati dalla redazione di Frones Multimedia in studio Cesare Martignan. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Luca Est e Capannoli. In Fipilì, all'uscita la strassigna provenendo da Firenze, coda per viabilità esterna che non riceve. Sempre in Fipilì, tra Scandicci e Firenze, traffico rallentato per viabilità esterna che non riceve. Un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. In A11, tra il Bivio A11, A1 Milano-Napoli e Prato-Ovest in direzione Pisa, rallentamenti per traffico intenso. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle, tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta, chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. A Firenze, fino al 1 settembre, lavori di ampliamento in via Panciatichi, con divieto di transito sulla direttrice Panciatichi-Steccuto e chiusura di via della ghiaccia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con la regione toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!